Il team Colonnese Promotion presenta un international prestige fight di Muay Thai sulla distanza di 3 round valevole per la categoria 56 kg albita il signor Marco Pagor di Roma all'angolo blu con un record formato da 6 incontri 6 vittorie per lui al peso di 56 kg e 100 per il glorioso team Black Widow da Birmingham, Inghilterra Ahmed Kausar Contro di lui all'angolo rosso con un record formato da 26 incontri 20 vittorie, 3 sconfitte e 3 pari per lui al peso di 56 kg e 500 per l'Itipo Camp Team Davi Terbo Italia Fabio Celestri Grazie a tutti Non lo so, Zーブ! è la prima ripresa, first round 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 Grazie a tutti! 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 Ed è la fine dell'incontro! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!